Attenzione, questo video è un'espressione di lombaggine estrema che può farvi stare l'omicidio nei miei confronti. Se così fosse, prendetela con l'EFO che si trova nella vostra cantina. Buona visione. The Elder Scrolls V Skyrim. Tutto ad ultra, vediamo come gira. Ma qua perché gira la testa così in obbligo? Cos'è? È piegato così con la testa e fa così, che cazzo? Ehi, ciao. Eh, sì. Siamo, e tanto lo so che avete già giocato tutti, quindi... spoiler, non spoiler, non mi interessa, ragazzi. La so anche io la trama. Sì, ma guarda, c'è la testa inclinata, che cazzo c'ha? C'è una torsione del collo che è una cosa assurda. Peggio della bambina, quella di Dead Silence, mamma mia. Cos'hai contro gli elfi? Brutto bastardo, Legolas è il mio PG preferito in Il Signore degli Anelli. Come qua? Ma che cazzo? Sembra un lemure, guarda con quegli occhi. Al macello. No, non sono un ribelle. Non potete farmi questo. Non voglio morire. Arciari! Con la tranquillità che scappa. Ok, ora possiamo scegliere chi siamo. L'orco? Eh, no. Nord? Kajiti. Il gatto! No, il gatto no! Elfo alto. Mmm. Argoniano. Mamma mia, cazzo è sta roba. Rettigliani, ora arriva. Ora arriva Matteo Montesi con le sue teorie. Ok. Confermare e dare un nome al personaggio? Ok, nome. 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 Che noi possiamo dare a sto personaggio? Arcus di Pruneterra. Non so perché. Tu non fai parte dell'ambasciata di Talmud. Vero è il po' alto. No, c'è qualcosa che non va. Capitano, cosa facciamo? Non è sull'elenco. Non mi importa se non è sull'elenco. Finisce sul ceppo come gli altri. Che stronza. Spero muoia. Mi pace. Draghi? Eh, sì, arriva il drago. Perché io? Prima il re, no? Prima il corso della ribellione. Oh, merda. Ma che troia assurda. Ah, lui è così. Ti voleva arrendere così tranquillamente. Sei proprio un cane. È il foscuro di merda. Uh. È un drago. Porco. Che figata. Eh, non mi sa. Ok, ok. Eh, boia vacca. Cos'è? Sei mio per ora tutto all'improvviso. Ti presto i miei occhiali. Tieni. Vado. Lui va tranquillamente? Ah, ok. Come corro? Ah, così. Sì. Quello è un drago. Oh, ancora le mani legate? Slegami le mani. Perché lui non ha le mani... Ah, non ha le mani legate lui. Sulla torre? Vabbè, andiamo. Oh! Che cazzo, sono caduto. Oh. Holy shit. Boy, a vacca. È delicimissimo. Sì. Oh, merda. Cazzo. Aia. Qua. Ci sono, ci sono. Oh, merda. Oh, il codemonio. No, ma voi tutti tranquilli. Sì che sono vivo. Sì, sì, anche a te. Oh, 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 holy shit. Che figata. Ciao. Oh, merda. Va bene, ti seguo. Eh. Ah, questo è sopra la porta. Figo. Eh. Oh. Con Edward o Holyward. Dove dobbiamo andare? Ah, posso anche scegliere subito? Fa un culo, vado con quello dell'impero. Era anche gentile, ha detto che gli dispiaceva se morivo. Cioè, più o meno. Eh, oh, io sto facendo. Però te che cazzo fai? Sei là fermo. Dov'è? Sì, basta dirlo. Vai a vacca. Elmo, vai. Come faccio a indossarli? Come? Uh. Figata. Eh, aspetta, come ne indosso le cose? Eh, non mi interessa, merdiare. Ho meno un personaggio. B. Ehm. Devo ucciderlo. Ti sto uccidendo? Ah, mori, 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 mori. È una donna questa, vero? Eh, 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 eh. Andiamo, dai. Che gasato che è. Oh, sì, buono. Mamma mia, che prepotenza. Questo è legno. Com'è che lo sposti così a cazzo? Oh. Come vibra sto controller, oh. Ah no, c'era una porta. Mori. Oddio, è ridicola la visuale in terza persona. Ah, ma io sto toccando il mio amico. Cazzo. Che figura di merda. Ma che cazzo. Ok, torniamo in visuale. Cazzo è nudo. Cos'è? Devo prendere pozioni? Uh, ecco qua qualcosa. Magica minore. Boccale. Sala della tortura. Ah, ya. Morto? Oddio, quanto fa so vecchio. Libro del sangue di drago. Seria interessante leggere ste cose. Ma che cazzo c'ha voglia? Ops. Uuuuh. Facciamo a trovare. Però aspetta, voglio vedere. C'erano dei libri. Tono magico. Usa. Uuuuh. Figata. Magia. Illusione. Furia. Oddio, c'era con me. Che cazzo vuoi? No, 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 no. Oddio, stacci, sua. Muori, Advar. Oddio. Aspetta. Magia. Poteri. Oh, merda. Non vorrei mica farmi morire di già. Cazzo, si era appena calmato. Madonna. Oh. Svegliati, amico. Mi aiuti. Ah, ok. Si è calmato. Boh, ah, che casino. Ah, devo andare avanti io. Bella roba. Che attacco io? Attacco quello. Oh, shit. Muori, cane. Oh, scusa. Eh, eh. Ah, ah, muori. T-bag, t-bag. Eh, spara. Ma che cazzo vuoi da me? Eh, eh. Certo, come vuoi. Oh, rucco. Qua c'è? Boh. Di qui, di cuore. Vieni, vieni. Ho liberato la strada. Più o meno. Oh, eh. Dove? Oh, merda. Quello è un cazzo di ragno. Oh, merda, no. Oh, no. Sono arachnofobico. Ah, che schifo, eh. Muori. Oh, shit. Vieni qua, eh. Prezzo di... No. Mori. Mori. Che è? Mi ha ucciso. Cosa ci attende dopo? Ah, era tipo un boss. Rai, congelante. Veniamo congelante. Figata. Aspetta, fammi recuperare un pochino. Cos'è sta orco? Cos'è un lupo? Col cazzo, è un orso? Orco. Oh, sì. Oh, sì, è morto. È morto. È tipo terra con la zampa sul cuore della serie. Oh, non ce la faccio. Mi sto morendo. Edvar ormai me lo son perso. Cazzo, me lo son perso sul serio? Edvar, edvar, vabbè. Allora, mi sa che bisogna andarti qua. Giusto? Eh, sì. Dova King, Dova King, nananana, svarin. Sei un cane, e lo sai, perché sei un picco... Ah, te sei così, sponato da nulla. Oh, merda. Ti attacco, ti attacco se ti avvicino. Ah, non sei andato. Mi abbassa anch'io, eh? Aspetta. Ahah, ahah. Oh, oh. Ok. Buona fortuna. Buona fortuna? Io ti seguo lo stesso. Anzi, se ti uccido... Eh. Mori. Un usciti alla legione imperiale. Wow. Cazzo da quella roba? Ah, scusa, non volevo. Cazzo da sono sta roba? Pietre guardiane, nuova scoperta. Quello che si trovano sotto il signo del mago prenderanno tutte le vita magiche e mette il precente più di un appodimento. Oh, che figata. Cos'è? Una supposta sta roba? Ah no, è un... Cazzo di raggio. Vabbè. L'ho già attivata, vero? Non posso attivare qualcun altro. Saremo sicuro. Oh, merda. Oh, shit. Non dovevo attaccarlo, non dovevo attaccarlo, non dovevo attaccarlo, non dovevo attaccarlo. Doe cazzo sei? Ok, ok. Ma sto scudo, boia vacca. Ecco, mi sono anche girato male. Adesso è in muoio. Scusa, Atvar, scusa, non volevo colpirti. Cosa vuoi che ti dica? È colpa tua. Non dovevi aizzarmi così. Oh, ma che cazzo? Pure con l'arco? Corri. Pure con l'arco, boia vacca. No. Corri. L'ho seminato? Forse l'ho seminato. Stai ancora incazzato con me? Ti ho portato i cioccolatini, oh cazzo? Eh no, pure i lupi no. Eh no, pure i lupi. Dove sei? Oh, che cazzo, ma che brutto che sei. Per lì c'è il lupo, vai. Orco demonio, pure sto cane. Oh cazzo, 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 è ancora lì. Andiamo a Riverwood, che lì assiamo al sicuro. Dove cazzo è Riverwood, mo? Uh, ecco Riverwood. Alleluia, dovremmo essere al sicuro ora. Deve sapere se ci attacca qui, ci dovrebbero aiutare ad ucciderlo. Oh, bene. Mmm, ciao bella signora. Ah, insomma. Ciao gallina. Mmm, gallina. Qua è la gallina che ha parlato, che cazzo? La gallina si chiama Sven, è la gallina che ha parlato, secondo me. Mi ricordo che una volta ho provato ad attaccarlo e mi hanno ucciso tutti, tipo, non lo attaccherò. Certo che però, che posizione stai sulle scale così? Cosa stai aspettando? Che ti lanci qualcosa? L'altro giorno ho sentito Lucan a gridare che un ladro era entrato nella sua bottega. Sì, ma... Sì, ma che cazzo mi dice a fare? Non ti conosco neanche. Sti bambini da oggi, sul serio. Bah. Mmm, devo andare qui? Mi sta attaccando? Oddio, ce l'ha con me? Mi pidi il culo. È lui che mi sta attaccando. Giuro, è lui che... What the fuck? Che sei serio? Non posso attaccarti, se ti attacco mi ammazzano tutti poi. Oh, svegliati. Oh, che cazzo. Ma io sono con te? Porco demonio. Ma sei scemo? Oddio, ora mi attaccano tutti. Posso difendermi, vero? Non è che vi incazzate se mi difendo. Muori, puttana. Ma non posso uccidere lui, è la mia missione. Mi devo far uccidere. È quello che mi stai dicendo? Ma che cazzo ha fatto mia? Non da qui di nuovo. Fa un culo. Sì, ma ti ammazzo lo stesso. Puttana. C'è sicuro? Grazie. Grazie.